Si può dire che il famoso capolavoro di Pellizza da Volpedo, il quarto stato, è ritornato a nuova vita nella rappresentazione dal vivo, stile Living Theater, che gli studenti del liceo Peano di Tortona hanno presentato nelle sale storiche della Biblioteca Civica di Alessandria in un pomeriggio chiamato Immagini e parole per conoscere Pellizza da Volpedo. Sono state presentate anche alcune letture della sua corrispondenza e di quarto stato, del suo significato, della sua portata storica, ha parlato Aurora Scotti, studiosa di Pellizza e direttore scientifico dei musei di Volpedo. L'iniziativa dell'azienda speciale a costruire insieme è piaciuta molto anche al sindaco Cutica di Revigliasco. Credo che l'esperienza, l'esperimento Pellizza da Volpedo sia un esperimento che sta riuscendo molto bene, sia come dato espositivo, cioè l'esposizione del dipinto dell'andegato e del cartone preparatorio del quarto stato, insieme alle iniziative che stanno ruotando attorno a questo evento. Questa è un'iniziativa importante per diversi motivi. In primo luogo tenta di far vivere, leggere la mostra e l'attività di Pellizza attraverso coloro che hanno studiato Pellizza, intendo dire la professoressa Scotti che conosce molto bene l'argomento, ma anche attraverso la lettura di studenti, ma anche attraverso la rappresentazione, come dire, la rievocazione umana, fisica, di coloro che in qualche modo hanno posato per la realizzazione del quarto stato. Quindi la presentazione di giovani studenti che intervengono, che in qualche modo vanno in scena rappresentando fisicamente quelli personaggi che hanno composto il quarto stato. È un'idea di leggere le opere d'arte e di viverle per attualizzarle e farle comprendere sempre meglio. Esperimento assolutamente riuscito.